Siamo al centro studi Leone XIII di Rionero in Vulture in compagnia dei nostri cari amici artisti Michele Zaccannino al clarinetto e Francesco Labriola al pianoforte. Eseguiranno quattro brani, Team for clarinet di Michele Mangani, La Ciarda, Oblivion, Astor Piazzolla, Blues da un americano a Parigi di Michele Mangani. Grazie a tutti. 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 Allora, terminiamo questo programma con un pezzo jazz che è ripreso dall'americano Parigi di Gershwin. Si chiama Blues di Michele Mangani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.